ciao a tutte oggi un video un po diverso non è un video unboxing ma è un video che riguarda un progetto che ho fatto per il tt di hobby embo e si tratta di un mini album questo periodo sto sperimentando appunto con i mini album non sono una grande esperta di strutture avevo chiesto la spiegazione per la realizzazione di questo mini album alla mia amica francesca che è stata bravissima a spiegarmi un po il funzionamento è una struttura comunque molto facile solo che non la conoscevo non l'avevo mai fatta e ho deciso di cimentarmi subito non avevo idea di fare un video ma come vedrete ho esagerato un po forse con il numero di pagine perché l'ho fatto con questa struttura ad alette con una costa che è di quasi sei centimetri e quindi all'interno mi sono venute fuori un sacco di pagine e non riuscivo proprio a scattare sarebbero un troppe foto insomma per farvelo vedere tutto nei suoi dettagli ho deciso di fare un video allora questo album è nato tutto con la con le carte della collezione so fall di so cai e però avendo fatto tantissime pagine non avevo abbastanza abbellimenti per usare solo questa collezione quindi ho fatto un mix tra so cai e coca desi che un altro mio design team perché i colori lo vedrete da soli come per esempio quelli di questa carta di ottobre si sposavano perfettamente con i colori della della collezione di carte quindi è venuto fuori un mix diciamo un'asse francia stati uniti viste le nazionalità delle collezioni che veramente mi piacciono tantissimo allora procedo subito a mostrarvi un po il mini album finché c'è ancora un pochino di luce qui all'inizio ho rivestito un blocchettino di cocoa che ho ridotto nelle pagine con una card della collezione dove penso di appuntarmi un po di pensieri un po di cosine riguardanti questo mini album e ho applicato un etichettina nella plancia di etichette con due animal dots qui troviamo il mio imencavile vellum è un vellum di american craft che ho acquistato anche per i progetti del disember daily ormai ne ho fatti fuori quattro fogli se non sbaglio che mi ha mandato gen di obiembo e ne ho ordinati appunto altri qui come vi mostravo la con la card del mese di ottobre perché tutto questo album è incentrato su una giornata che ho passato con mio marito a venezia qui raccoglierò i miei pensieri qui manca un cat file che devo ancora fare e poi cominciamo subito con le paginette vi dicevo una giornata a venezia con un tempo strano c'era tantissima nebbia quindi le foto che vedete non sono ritoccate ma hanno questi colori chiari e sfumati proprio per via della nebbia e così ne ho approfittato per per stamparle tutte e metterle in questo album dovete sapere che io abito vicino a venezia quindi ci vado spesso ma non c'ero mai andata con la nebbia quindi è stata una prima volta allora ho giocato un po con abbellimenti tridimensionali e tagline inserti dove appuntare poi i miei pensieri e ho continuato sempre con il filo conduttore del vellum che ho utilizzato anche qui e sopra ci ho applicato un trasferello un rabons come li li chiamano poi in inglese che prendono benissimo anche sulla carta vellum anche sulle fotografie essere sincera su qualsiasi superficie e fanno questo bellissimo effetto vedo non vedo poi da delle card ho ritagliato delle tagline e questa invece è con la carta di flor e les le carte quelle basiche con il rosa poi con il pan salvabuchi ho creato il contrasto qui sulle tagline qua un'altra carta sempre con l'effetto tridimensionale dato dal biadesivo spessorato e questo è sempre un trasferello che fa questo effetto lucido senza però dare spessore e una timbrata sopra un mix insomma di cose come anche a destra vedete come piacciono questi effetti tridimensionali quindi carta di sokai e questo l'ho ritagliato a mano senza prestarci troppa attenzione io ritaglio un po così in velocità e poi dei fustellati se non sbaglio di flor e lesce questa fustella che ha un po di tempo e utilizzo continuamente qui una foto rubata questo gondoliere che il più figo con dei gondolieri nella storia veneziana era tra l'altro in una posa perfetta come vedete applicato uno sticker e un chip board per dare un po di rilievo e qui sempre con le cosine di sokai il titolo della pagina il vellum e gli mancabili fustellati poi vi sfoglio un po perché poi vi direi sempre le stesse cose è un mix di timbrate fustellati e card sempre con il discorso tridimensionale dato dal dal biadesivo vedete che non ho dato grande mattatura le foto gli ottenuto un po di cornicetta di quelle stampate con la selfie vedete un po di cornicetta bianca e se notate vedete questo cielo che sembra bianco e non è l'effetto di photoshop era proprio una nebbia un po fuori stagione perché un po prestino anche qui da noi sì io abito in veneto appunto come vi dicevo vicino venezia siamo abituati alla nebbia ma ero partita da casa con il sole e poi ci siamo ritrovati appunto in questa giornata un po particolare anche qui trasferello applicato su vellum poi spessorato e con carta flore e qui la macchinina fotografica ritagliata ho creato anche un po di titoli mescolando vari alfabeti anche di consistenze e spessori diversi a me piacciono un sacco poi mi piace molto mescolare timbrate e appunto sempre i trasferelli che vi dicevo per creare questi effetti un po diversi mentre le fotografie tendenzialmente mi piace tenerle abbastanza libere senza grosse modifiche generalmente perché appunto mi piacciono da così qui sempre con il vellum ho creato una bustina che va a contenere le carte dove appunto i miei pensieri spesso anche delle curiosità sui posti che vedo perché venezia uno di quei posti magici che per quanto tu ci vada spessissimo trovi sempre delle cose un po diverse un po caratteristiche che a me piace poi approfondire come vedrete più avanti qui ho giocato di vellum di wash wellum quindi un wash in questa consistenza particolare semplicemente una carta di quelle più grandine tagliata a metà e con due cosine applicate una tembrata e il titolo continuiamo guardate la magia dell'arsenale con la nebbia appunto che si vede per quanto riguarda il titolo qui ho ritagliato l'alfabeto di gen della collezione c'era una volta l'autunno che ha sempre dei colori che si sposano benissimo con tutto il resto e quindi mi piaceva molto utilizzarlo anche qui vedete arsenale nella nebbia e le tagchine immancabili come vi dicevo prima eccoci qua qua sono tre dettagli appunto nell'arsenale qui un altro scorcio discorci così venezia ne è veramente piena e qua una fustellata wonderful con la macchinina fotografica sempre ritagliate un animal dots come obiettivo poi abbiamo sempre una card dei fustellati degli sticker applicati qui semplicemente la foto inserita senza niente qua come vi dicevo ogni volta una cosina nuova e qui ho voluto informarmi su google e poi stamparmelo il ponte del diavolo che appunto questo ponte che ho fotografato la denominazione del nome da cosa deriva appunto questa questo nome qui e qui abbiamo le gondole e una condolire ad eccezione cioè io sempre appunto immersa nella nebbia il racconto di queste giornate qui sempre una taschina creata con il bello che contiene due tagline con un po di racconto e siamo arrivati alla fine per l'interno ho usato la carta effetto legno poi nel blog che trovate sul sito di obiettivo trovate tutti i dettagli delle collezioni utilizzate con il link direttamente al negozio e il l'album ancora non ha una bellemente un copertina perché sto aspettando una cosina che deve arrivarmi ad hoc e quindi non ho voluto creare una cosa così a caso ma volevo qualcosina all'altezza come ce l'avevano i miei pensieri spero di avervi fatto vedere bene tutto se avete delle domande non sono un'esperta ma insomma fatemi sapere cosa ne pensate se avete bisogno di qualche delucidazione come sempre un bacione ragazze buona giornata